Ciao, mi vedi? Ciao, sì sì, vedo tutto Allora, sono alla biforcazione, ora poi ci metto il colore, eh? Siamo per restabilire, diciamo, la dimensione della placca, quindi della, chiamiamola così, incrostazione all'interno della carotide, che può impattare negativamente con il passaggio del sangue verso il cervello. Quindi in questo momento si sta cercando di restabilire se in questa placca è di dimensioni più o meno grandi, interminente in tipo la percentuale di stenosi. I due operatori stanno, appunto, confrontandosi sulla modalità per determinare questa stenosi, facendo riferimento alla velocità con la quale scorre il sangue. Ecco, in questo momento l'operatrice sta interagendo con l'altro operatore che si trova a Pisa dove? Si trova a Pisa e in chirurgia vascolare a Pisa e stanno, appunto, confrontandosi sul sistema più adeguato per determinare questa stenosi. Grazie. Grazie.